Lavoreremo per far diventare fra alcuni anni Ferrara Capitale Europea della Cultura, così Vittorio Sgarbi, noto critico d'arte e neopresidente della Fondazione Ferrara Arte, ha chiuso il discorso show alla platea gremita del Teatro Comunale, che ha salutato anche il nuovo presidente della Fondazione Teatro Comunale Abado di Ferrara, Mario Resca, e il presidente dell'Associazione Ferrara Musica, assente per motivi di salute, Francesco Micheli. Queste le tre nomine culturali del neosindaco di Ferrara Alan Fabri, scelti anche i relativi CDA delle istituzioni che si occupano degli eventi artistici, musicali e culturali della città. I presidenti svolgeranno il proprio ruolo a titolo gratuito come i loro predecessori nel caso delle due fondazioni, l'ex sindaco Tiziano Tagliani e l'ex assessore alla cultura ed ex vicesindaco Massimo Maisto. Mario Resca, presidente del Teatro Comunale, ha lasciato Ferrara a 17 anni per seguire una carriera che lo ha fatto diventare punto di riferimento della business community italiana e tra le varie cariche è stato anche amministratore delegato di McDonald's Italia. La domanda di turismo culturale è in forte crescita in tutto il mondo, Ferrara deve inserirsi in questo circuito, ha detto Francesco Micheli, presidente di Ferrara Musica, parmense e imprenditore, amico di Claudio Abbado, dopo un'attività nel settore finanziario e assicurativo è stato tra i primi in Italia a individuare nell'alta tecnologia e nelle telecomunicazioni una possibilità di sviluppo dando vita a start-up di successo tra cui nel 2000 Fastweb. Vittorio Sgarbi invece di Ferrara Arte, noto per le diverse cariche coperte, per la carriera televisiva e profondo conoscitore d'arte, ha raccontato i suoi progetti per la città tra cui portare Ferrara a diventare capitale europea della cultura. Concorrere per il prossimo anno, nel 2022, per capitale italiana è diminutivo, per questo ho detto al sindaco, puoi anche farlo, a parte la cifra che è molto modesta rispetto a quella di circa 50 milioni di euro per la capitale europea. In ogni caso dico, al di là di queste suggestioni e anche contributi importanti dell'Europa o del Ministero, Ferrara è capitale europea perché è una delle grandi capitali dell'arte del mondo, non è meno importante di Firenze e di Venezia. Poi, per quello che riguarda il mio compito come Presidente di Ferrara Arte, è evidente che io, su palazzi che sono tra i più importanti, anche questi del mondo, Palazzo dei Diamanti, è il più importante palazzo rinascimentale forse d'Italia. Ed è una sede di mostre di arte contemporanea da decenni. Quindi è chiaro che lì occorre una rotta che sia un po' diversa da quella dei miei predecessori, in particolare un mio compagno di scuola che ha tentato di portarla molto sul versante della cultura francese, e vedere quanto si può fare di cultura italiana, di cultura anche ferraresica, comunque cultura universale. Con questo senza polemiche, anzi utilizzando anche gli studiosi che hanno lavorato per Ferrara Arte nel passato. Però credo che una presidenza di una persona come io sono così convinta della grandezza di Ferrara possa essere utile a Ferrara sicuramente e anche a quanti qui verranno per vedere cose che sono ancora sottostimate. Non so per esempio per fare una battuta a voi quanti di voi abbiano in mente dipinti di cosmetura. È probabile che gran parte del mondo di chi guarda la televisione ignori i grandi ferraresi, il che vuol dire che come la gente non ignora Botticelli o Perugino, sarebbe bene che i pittori ferraresi che sono altrettanto importanti fossero altrettanto noti.